Negli scorsi mesi qui a Central Park West affrontammo due tendenze ugualmente importanti ma parallele del cinema americano dell'ultima stagione. Da un lato l'escapismo, il simbolo più importante, più bello, è certamente la La Land, la fuga, il sogno, e da un'altra parte la realtà e il realismo, il simbolo più importante, più di successo, più poetico, è Moonlight. Dopo un'estate contrassegnata da film fragorosi quanto dimenticabili, adesso il cinema americano propone una serie di western e questo è un segnale molto interessante. Innanzitutto si tratta di western di buona fattura, entrambi ispirati dalla grandiosità registica di John Ford, sia in termini di ambientazioni che di costruzione narrativa, ma hanno anche una serie di elementi che ci fanno riflettere sul perché oggi la produzione degli studios americana affronta un genere che sembrava declinante o addirittura dimenticato. I due film in questione sono Woman Walks Ahead, cioè La donna cammina avanti, di una regista inglese, Susanna White, ma il film è interamente americano, e il secondo è Whole Styles, di un regista statunitense, Scott Cooper, lo ricorderete un paio d'anni fa per il film Black Mass con Johnny Depp ed ha per protagonista Christian Bale. Nel primo film, che ha invece come star la magnifica Jessica Chasten, si racconta la vicenda vera di una donna che rimane vedova a New York, è una donna dalle idee liberal, che abbandona la New York di fine Ottocento e decide di andare a visitare, a incontrare Toro Seduto per fargli un ritratto, lei è una pittrice. Questo genera una serie di scandali perché in quel momento Toro Seduto è in riserva, è stato sconfitto dopo la sua vittoria al Little Big Horn, ma è ancora un capo assolutamente carismatico, in grado di influenzare gli altri capi tribù e soprattutto a convincere a non accettare la trattativa con i bianchi e con i soldati che di fatto hanno distrutto la vita, la cultura, le grandi tradizioni di quelle che sono chiamate le 500 nazioni indiane. L'arrivo di questa donna coraggiosa e anche un po' idealista in questo mondo totalmente strano a lei, genera un effetto abbastanza sorprendente perché gli indiani la colgono e ne capiscono lo spirito sincero e la volontà di essere soltanto comprensive e accogliente, viceversa coloro che per definizione e per semplificazione chiamiamo come bianchi giudicano questo come un tradimento assoluto e cominciano a fare di tutto, anche delle violenze per cercare di impedire questa alleanza, questa amicizia tra una donna e coloro che chiamano i Pelli Rossa. Ripetiamo, si tratta di una storia vera che ha generato anche un famosissimo ritratto che attualmente è esposto allo Smithsonian a Washington. Non rivelerò come va a finire ma sottolineo come questo film non solo si rifà a John Ford ma i film degli anni 70, quelli che in qualche modo tradivano la tradizione fordiana, quelli che in qualche modo vedevano il western al punto di vista degli indiani, delle volte anche con un eccessivo idealismo. Diversa la storia invece di Hostiles che racconta ancora una volta il conflitto tra indiani, anche se totalmente improprio, dovremmo dire nativi americani e bianchi, e lo racconta negli occhi di un soldato che è costretto ad accompagnare un leggendario capo tribù attraverso tutto il west, accompagnarlo per lasciarlo morire nella sua terra. Il tutto costellato da un itinerario fatto da guati bianchi e indiani, ma soprattutto da un odio continuo tra i personaggi che sono costretti a convivere durante questo viaggio. Ripeto, entrambi i film si lasciano vedere, hanno delle qualità, sono di ottima fattura, forse di grande artigianato più che di arte, sono un po' alla ricerca del talento altrui, si vede troppo il modello fordiano specie in Hostiles. Tuttavia quello che a noi interessa particolarmente è perché Hollywood riscopre il western. La mia personale interpretazione è perché l'America in questo momento ha bisogno di un'epica, ma soprattutto ha bisogno di riconoscersi in valori forti. Entrambi i film raccontano il tradimento dei valori americani e il fatto che alcune persone, uomini o donne, attraverso il loro sforzo, attraverso il loro coraggio, attraverso la loro dignità combattono per tenere in vita questi principi, questi valori e in qualche modo riescono a triunfare, anche quando nell'immediato ci sta un bagno di sangue che fa morire alcuni dei personaggi. Un paese che si rivolge al passato per cercare le proprie tradizioni, i propri valori, la propria cultura è un paese che è chiaramente in crisi, ma lo fa attraverso delle operazioni nobili e questa speranza, questo anelito è certamente da incoraggiare e premiare. Non si tratta di capolavori, ma ci raccontano come oggi il disorientamento, la paura, l'angoscia per scelte incomprensibili, per leadership improvvisate, per violenze che possono esplodere da un momento all'altro, ci fa vedere indietro dove il cuore di quello che è stato il grande paese. Nessuno di questi film rimarrà alla storia, ma rimarrà alla storia come Hollywood ancora una volta cerca attraverso i propri generi più grandi e migliori di raccontare cos'è l'America del passato e del presente. Un saluto da Central Park West. Un saluto da Central Park West.